Ciao a tutti, oggi vi voglio raccontare un po' di come sto vivendo questo periodo di confinamento come tutti voi. È un periodo in cui per fortuna il mio lavoro è da casa, quindi uno smart working sta continuando e nel resto del tempo ho un po' riscoperto cose che mi piace fare, per esempio cucinare e dedicarmi ai miei hobby come la creazione dei gioielli. E tutto questo lo faccio ovviamente ascoltando la mia musica preferita, la musica country e anche e soprattutto Wild Angels Radio che è veramente una grandissima iniziativa. E il tutto è un po' sospeso in questo momento di attesa perché non vedo l'ora di potermi rinfilare agli stivali, penso proprio come voi e poter di nuovo calcare quelle piazze, quelle piste di legno, dei saloni che le guardi, vedi l'inizio e si estendono molto avanti. E poi veramente spero anche di ripotere a ballare le changing dance. Penso che non manchi molto, dobbiamo soltanto avere un po' di pazienza ancora ma piano piano dopo un po' riconquistiamo le nostre libertà. E a questo proposito c'è proprio un'iniziativa nuova, unica nel suo genere che non c'è mai stata prima e che voglio condividere con voi e si chiama il Salone del Cavallo Americano Online, creata apposta per noi. Vi aspetto!